ebbene sì ebbene sì ebbene sì carissime amiche carissimi amici buona 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 sera dal vostro caro giocherillone colui che come al solito vi porta i videogiochi più belli del passato e i videogiochi più belli del presente del futuro e oggi il vostro caro amico vi porta addirittura un gioco che ha fatto la storia un gioco sviluppato dalla del fine software dopo another world e dopo si potrebbe dire anche art o valio non pensate un pochettino questo videogioco che a molti è sconosciuto e praticamente il seguito di another world in realtà in realtà il mondo pc vide flashback come proprio un bel e proprio seguito di another world infatti si pensava che il personaggio praticamente di flashback forse anche il professore di another world in realtà non è così non è così perché perché another world ha avuto un bel e proprio seguito che erto alien che poi vedremo uscito per mega cd e flashback invece è un titolo a sé stante che riprende molto molto le meccaniche di prinzo persia di another world li amplifica e ci mette una storia molto interessante ragazzi pensate un pochettino è arrivato flashback è arrivato flashback simulazione crt no non la voglio praticamente voglio un bel un bel un bel un bel praticamente una bella immagine non lo voglio nemmeno sfocato pensate un pochettino pannelli laterali i pannelli laterali tenevi parlare di laterale cutscene jukebox gallerie d'arte di strada vedete che piano piano possiamo andare a sbloccare andiamo a vedere il tutorial di flashback vedete ragazzi per camminare corretti riprenduto a e vai avanti salire su un oggetto quindi proprio prinzo persi aprire chiudere l'inventario praticamente vedete un pochettino usare l'oggetto seleziona oggetto e premi b arma praticamente sarà dell'arma dalla fondi ne premi e tv per lb e poi reti per sparare salto e lungo utili tini per un percorrere poi premi praticamente per saltare tenebbero più sopra addirittura pensate saltare giù con l'arma praticamente te premuto lb morsi andare si sedesse rotolare quindi tenerebbe a più sotto praticamente per scendere tenendo premuto attaccato piccolo salto sopra e a praticamente usare un ascensore sopra e sotto tenendo premuto a usare un dispositivo sezione l'oggetto alimentare e chiudere l'inventario vedete il premuto davanti al dispositivo arrampicarsi ed estrarre la pistola tenere premuto sopra e stare la pistola e tenere premuto praticamente perfetto rannicchiarsi vedete un pochettino tenere premuto sotto lanciare un oggetto la selezione oggetto e premere b azionare un dispositivo fare una capriola correre premere sotto e fanno capriolo rannicchiarsi e premere destra correre per salire su una piattaforma vedete a rilasciare sinistra salto automatico e fare una capriolo con la pistola vedete i soliti capriolone alcuni oggetti possono essere posati in uno scenario tipo pietra telecevettore quindi selezionare un oggetto e lasciare l'inventario chiudere l'inventario nel punto sotto e premere b praticamente e tiri bassi rannicchiarsi per sparare obiettivi bassi e questi sono ovviamente i comandi basilari per giocare a flashback andiamo a giocare vediamo che cosa abbiamo nuovo gioco gioco classico o modalità moderna facciamolo facciamolo tutto due facciamo facciamo modalità moderna quindi tutorial modalità rewind suone musiche migliorate filtri post fx opzione grafica corrente saranno ripristinate perfetto facciamoci la versione questa versione facciamo due minuti per livello vediamo un pochettino che cosa abbiamo vedete un pochettino la mitica scena di flashback con questa immagine vedete ragazzi movimento di base quindi andiamo a premere praticamente a vedete ragazzi possiamo premere praticamente qui sopra e grande flashback ragazzi è stato migliorato tantissimo come potete vedere qui estraggo praticamente la mia pistola qui mi muovo praticamente per andare quindi molto molto diverso vedete tiene premuto a e poi sopra per saltare perfetto tieni premuto a vedete mi vado ovviamente me ne vado ovviamente qui sopra addirittura con flashback ragazzi andiamo a premere praticamente sono andare mirko beve la clip la tua pistola o pistoluno pistolone o pistolone mirko papella ragazzi qui ovviamente mamma mia ragazzi qui mi ha tagliato ha tagliato fuori praticamente il mio amico un gioco fantastico un gioco fantastico dove si si ci si arrotolava pensate un pochettino mamma mia ragazzi guardate qui sopra cosa sto andando ovviamente a distrugge esploso il bombolone ecco qua mitico ride da mirko papella mirko bella ti ringrazio per il ride gioco fantastico mi ci sono cresciuto flash dance no vuole un'altra cosa mirko papella che bello e mirko marco carnevale professore geologo mi sto massaggiando con la e mirko papella veramente professore geologo però dai a mirko papella per favore professore geologo dai professore geologo non me l'aspettavo dal professore geologo dobbiamo dire la verità ragazzi qui c'è qualcosa che non va diceva sempre il marito di papà praticamente mi sto massaggiando con marco carnevale corretemente punto a poi adesso e saltare punto a più sopra quindi veramente ragazzi sa e alla palla la palla di urano vedete un pochettino vado qui sopra sopra a palla sopra papa a pallare vedete ragazzi guardate qui sopra mi devi fare qualche cosa mi devi far capire chi sei ecco qua vedete ragazzi qui ci arrotoliamo ci arrotoliamo quindi ci arrotoliamo da questa parte qua c'è cresciuto il professore professore dottor geologo ginecologo marco carnevale che ancora deve laurearsi in ginecologia attenta urano te lo mette nell'ano attenta urano te lo mette dentro l'ano ovviamente con mirco papella che si tocca il deretano ragazzi queste sono le grandi le grandi canzoni di natale pensate un pochettino le grandi canzoni di natale e questo è il flashback ragazzi il flashback ovviamente va addirittura dietro la schiera di mamma ecco qua e di papà pensate un pochettino vedete un pochettino questo s questo robot di eugenio boom gli esploso praticamente eugenio nella nella nello stivale per ragazzi guardate e vai e vai qui sopra addirittura adirittura boom ecco qua con la pistolona con la pistolona e vedete ragazzi veramente c'è cresciuto pensate un pochettino mirco paella c'è cresciuto ha detto e se a rischio ma lo scusami scusami non lo sapevo scusami scusami carissimo amico carissimo amico che non sapevo ragazzi vedete molto molto diverso sicuramente another world molto più diciamo veloce ma allo stesso tempo mamma mia si attacca praticamente a quello che trova praticamente vedete ragazzi vedete punti dell'arte di strada l'arte di strada di alessandrino praticamente alessandrino faceva l'arte di strada pensate un pochettino ragazzi voglio scendere voglio scendere da babà e da mamma mi posso dondolare il dondolone ragazzi guardate il dondolone posso andare praticamente da questa parte qua no perché ragazzi perché flashback mirco paella mirco paella c'è cresciuto pensate un pochettino flashback c'è cresciuto mirco paella un ragazzo che un ragazzo mirco paella che vuole ecco qua vedete il grande salto di marco kkk ecco qua bombe di faccia proprio gli è andato praticamente nel soffitto praticamente vedete un pochettino non vedete up a pallone ragazzi up a pallone è bella sembra mamma soia pensate un pochettino quindi ce ne andiamo praticamente questo tiene premuto a per qui sopra per saltare e quindi ci attacchiamo ci attacchiamo qui sopra vedete un pochettino quindi andiamo a vedere qui sotto che cosa abbiamo ecco qua l'olocubo e dove lo pigli nell'olocubo ecco qua premiamo a praticamente prendiamo l'olocubo vedete sentite guardate che bello l'olocubo a mammi quanto è bello l'olocubo ragazzi è fantastico l'olocubo che ha praticamente dentro le tutte di più cosa ne pensa dei pinguini che cercano una compagna per tutta la vita e poi trombare come ricci crisi d'identità noci si vogliono accoppiare gli piace ecco qua fare una cosa del genere seleziona oggetto alimentare chiudi l'inventare premendo b e beh mirco paella solo delle situazioni ovviamente molto particolari vedete ragazzi i crediti non abbiamo crediti abbiamo l'olocubo ecco qua è lo scudo addirittura lo scudo cubo praticamente pensate un pochettino quindi andiamo a scegliere il punteggio addirittura ragazzi l'olocubo praticamente quindi possiamo premere a e usare l'olocubo praticamente vedete ragazzi andiamo e va la pia e lei pigliate l'olocubo ecco qua andiamo con l'olocubo e vedete adesso con l'olocubo cosa posso fare ragazzi posso usare l'olo praticamente l'olo e le storie tese praticamente quindi andiamo a premere praticamente qui sotto con l'olocubo in realtà possiamo andare a riprenderci il nostro l'olocubo dove l'olocubo ragazzi lo potremmo usare forse più avanti cosa possiamo fare cosa possiamo fare con l'olocubo non lo so ragazzi sappiamo solamente che mirco paella grande amico grande che mi grande portalista pensate un pochettino il copia bella sta creando il portale cosa ne pensi la riproduzione mammiferi non è un po grigia e che devono fare che devono fare secondo me si devono riprodurre marco carnevale come devono fare per riprodursi e questi mammiferoni praticamente non lo sappiamo non sappiamo ovviamente nemmeno marco carnevale alla fine perché si vuole riprodurre egli stesso su questo diciamo che marco carnevale carnevale è praticamente il nostro caro amico il nostro caro streamer praticamente dei tempi d'oro dei tempi d'oro che ovviamente noi tutti non aspettiamo le moffette secondo te fanno i video non lo so ma marco mi ammirco paella devo dirti a vedere rimango veramente esternato rimango veramente senza senza diciamo con un fronte di cappello praticamente di quello a quello che è praticamente il tuo il tuo ovviamente il tuo modo di parlare il tuo modo di pensare penso un pochettino il tuo modo di dire marco papellante marco papellante ovviamente marco papellante ovviamente che si fa il bidet si fa il bidet giocando a flash beh ovviamente dobbiamo dire la verità guardate come gli piace gli piace a marco carnevale che gli piace saltare anche mi seguite su twitch siete un pochettino scemi ecco qua qui carnavale carnavale ma carnazione carnevale che gioca sempre ogni giorno praticamente a flashback oh ha chiamato in faccia ovviamente il fior d'aliso io vorrei portare fior fiori di giochi tu vorresti portare fior fiori di giochi ma in realtà non ne porti nemmeno uno perché ti piace vedere noi che portiamo fior fiori di giochi e questo è il bello e questa è la vita e questa è questa la grande diciamo voglia di amici è caduto a pera di carciofo andiamo a premere ovviamente che devo fare devo fare me ne vado praticamente da questa parte qua il rewind praticamente avete visto ragazzi veramente incredibile il salto di alessandri il salto di alessandri il salto della vergine il salto del verginello dobbiamo dire quando vede quelle cassette con lontano ecco qua il salto di alessandri al carnazzone ecco la bella allora se mi seguivi perché mi è arrivata notifica adesso del follower del foo ti piace il follower ti piace il follower di marco carnevale mamma mia ragazzi guardate qui è marco carnevale marco carnevale l'amico che tutti quanti volevamo conoscere ragazzi pensate un pochettino quante volte avete voluto conoscere il marco carnevale ed eccolo qua l'olocub praticamente ragazzi andiamo su olocubone vedete addirittura mamma mia qui oh mi hai preso mi hai preso da sotto mi hai preso da sotto è stato una situazione molto molto brutta vedete ragazzi addirittura possiamo vedete ragazzi attaccarci attaccarci col pistolone praticamente quindi possiamo vedete un pochettino addirittura mettere la pistola praticamente qui sopra e qui o qui è meglio che e qui meglio ovviamente pop 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 a bomba a bomba esplosa praticamente poi esplosa la bomba ragazzi avete capito bene posso praticamente vedete un pochettino addirittura buttati 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 molto molto brutta questa parte qua ragazzi facciamo il rewind ecco qua perfetto giochiamo ovviamente buttati a quest'altra parte amico caro boom da dietro le spalle ecco qua per non dire un'altra cosa ragazzi molto 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 triste vedete un pochettino vedete perfetto vado a giocare e perché la togli l'arma la palla palla perché la togli aglia 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 ragazzi sono sceso e sono caduto molto triste ecco qua questo è l'olocubo praticamente che posiziono un po da prossima live buonanza bra si 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 mi era stato chiesto anche da alessandrino pensate un pochettino mi era stato chiesto anche da alessandrino che ovviamente mi aveva detto e giocherello ragazzi è il bombolone perché ha proprio in faccia il bombolone avete visto ragazzi che cosa è uscito quindi possiamo ovviamente riprendere questa che questa parte ovviamente del mitico filiberto di savoia me ne vado qui a rotolare mamma mia ragazzi qui è veramente bellissimo pensate un pochettino è la cosa che sicuramente dobbiamo andare a come guardate quando quando ha delle difficoltà praticamente a metterlo dentro praticamente vedete ragazzi quando vuoi queste difficoltà mette dove vai praticamente mamma mia ragazzi che amico veramente incredibile flashback è il gioco che è invecchiato un po male ragazzi dobbiamo dire avete invecchiato un po male vedete meno male meno male meno male meno male meno male che ragazzi è diventato un pochettino strano dobbiamo dire avete vedete il ragazzo che ovviamente va a salire praticamente qui sopra se ne va praticamente vedete ragazzi piglia l'aria in corsella l'aria in corsella e via e non non c'è mamma mia ragazzi si è attaccato proprio come si attaccavano le persone perché basta 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 un colpo di pistola veramente assurdo ragazzi sarà sul mio canale bonanza broma poi te lo porto te lo porto prossima live armorer core un gioco o addirittura ragazzi qui dobbiamo mettere la tesserina praticamente mettete il blocco di cartuccia il blocco di cartuccia andiamo a selezionare praticamente questa cosa e quindi andiamo qui sopra vedete ragazzi a utilizzare vedete adesso vi faccio vedere una cosa molto molto bella vedete e mettilo dentro mettilo dentro questo coso praticamente non lo mette dentro lo ha messo ha bisogno di una cartuccia magnetica carica quindi devo ricaricare la cartuccia quindi veramente il gioco fantastico ragazzi un gioco fatto per voi che non vedete l'ora di fare gli spionaggi stiamo facendo da far venire a voi a marco carnivale di stremmare immaginate marco carnivale quando strema vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro si clip mettilo dentro mettilo dentro ovviamente mirco papella il nostro amico gioco genuino ragazzi attenzione perché qui abbiamo un super olocausto praticamente vedete ragazzi l'olocausto animale vedete addirittura guardate questo essere che praticamente va qui su e non si attacca non si attacca al lavoro del tuo dentista non si attacca al lavoro del tuo dentista mamma mia gli hai visto ha visto una cosa guardate guardate qui alla papella ragazzi alla papella veramente attaccato a sto a sto bombollone praticamente ecco qua il ragazzo fulminato mamma mia ragazzi ed è scomparso non l'abbiamo più visto non l'abbiamo più visto a casetta avete visto ragazzi il povero ragazzo che è morto praticamente a soli 16 anni ecco qua questo ragazzo travolto da un treno clip alla papella è attaccato a sto bombollone un po bollone mirco pape ecco qua ragazzi guardate il grande fodero il grande fodero addirittura ragazzi guardate qui guardate qui ragazzi guardate guardate il grande foderone ecco qua quindi ci andiamo ad attaccare sul prosciuttone praticamente vedete ragazzi e possiamo anche ricaricare adesso il generatore di energia selezionate l'oggetto seleziona selezioniamo l'oggetto il generatore e lei l'ha ricaricato il generatore di energia non lo va a ricaricare forse lo lo cubo ragazzi dobbiamo ricaricare e metti non mettilo dentro prova a metterlo dentro non avere paura non avere paura forse dobbiamo ricaricare eccolo qua ragazzi lo scudello lo scudello non riesce a metterlo dentro veramente molto triste dobbiamo dire avete a mirco papella ovviamente mettilo tutto dentro mettilo dentro scudo scudo zero ma in realtà mi sembra ricaricato lo scudo ragazzi per favore per favore cercate cercate non ho sentito niente non ha sentito niente mirco papella devo dire la verità non riesce a metterlo all'interno avete visto ha fatto il passetto all'indietro ragazzi avete visto ragazzi veramente incredibile un gioco che ti fa capire che ti fa capire tante cose praticamente dobbiamo stare attenti dobbiamo procedere rotolando ragazzi eccolo qua il grande professore il grande marco carnevale oh boh 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 veramente incredibile ragazzi dobbiamo dire la verità è bello è bello flashback ecco qua si è buttato avete visto ragazzi si è buttato all'altra parte come se niente fosse addirittura vedete vedete qua c'è qualcosa praticamente c'è l'olocubo praticamente vedete oh mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi è veramente triste questa parte qua quindi si mette proprio qua sotto non ha sentito niente non ha sentito niente vedete un pochettino vedete un pochettino bellissimo ragazzi è veramente bello guardate il flashback il flashback che avete visto non possiamo proseguire vai vai a saltare praticamente da questa parte qua ci buttiamo quindi da quest'altro luogo ecco qua vedete ci buttiamo praticamente di qua andiamo a fare il passettiello ecco qua e addirittura ci giriamo quindi da quest'altra parte qua qui c'è qualcosa che non va ragazzi ecco qua vedete ragazzi questa parte qua vedete abbiamo fatto praticamente cadere il grande passatiello ecco qua finalmente possiamo salire veramente fantastico ragazzi flashback oh mamma mia aiutami tu pasquale aiuta aiuto sono pasquale ecco qua eccolo qua è arrivato il ferito ragazzi aiutami giovani sono stato attaccato dai mutanti senza mutande voto 8 saluto di finale al prossimo gioco e non posso camminare troppo il mio teletrasporto bisogno di cure urgenti ecco qua bla 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 aiutami giovane non posso camminare non posso camminare sono marco carnevale ecco qua ragazzi veramente quindi veramente assurdo dobbiamo dire da mirko papella si è scocciato di flashback perché flashback forse per lui è invecchiato un po male ragazzi dobbiamo dire la verità ma di flashback sono usciti anche dei remake ma di quello che ovviamente mirko papella non sa qual è ragazzi è che il regalone praticamente avete visto l'effetto rimbalzo l'effetto rimbalzo alle alle in stile giocherellone ragazzi avete visto veramente assurdo cerchiamo un attimo di capire anche un attimo dove possiamo vedete ragazzi usciamo facciamo uscire la pistolona o mamma mia è caduto per l'area praticamente avete visto avete visto avete visto avete visto praticamente di qua non può camminare ma può camminare come si piglia con la con la con la zeppola di patata ragazzi come si prende con la zeppola di patata andiamo a vedere ovviamente se possiamo scendere qui sotto e ce ne andiamo ragazzi col generatore di energia il generatore di energia vedete che tutte le feste porta via andiamo a cercare di utilizzare praticamente l'oggettino l'oggettino col generatore di energia che non viene non viene vai a premere praticamente qui andava a prendere la presa il pistolone ragazzi vedete e non gli fa niente col generatore di energia ma forse devo ricaricare loro calo loro coso loro cubo praticamente vediamo un pochettino l'ave durata troppo perché non ti è piaciuta non ti è piaciuta la live del tuo amico il tuo grande amico il giocherellone colui che ti fa o addirittura si attacca al volo ragazzi questo guardate guardate come si attacca e vai vai bellissimo hai preso un punto dell'arte praticamente guardate come sei come vola ragazzi veramente bellissima si attacca al volo in maniera automatica ragazzi guarda come don do lo guarda come don do lo con marco carneval ecco qua vero vero dobbiamo concludere dobbiamo concludere la vita addirittura pensate un pochettino dobbiamo dire la verità dobbiamo stare attenti ragazzi il blocco della carta ho bisogno di una cartuccia magnetica carica e te l'ho caricata 28 volte quella cartuccia magnetica carica ma io dico io cosa devo fare per per renderti ovviamente participe di questa mia voglia di giocare pensate un pochettino guardate come salta e salta come blocco della cartuccia si il blocco della cartuccia di alessandrino praticamente vedete come si attacca ragazzi il moestro e basta 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 esplodi dai mamma mia ragazzi che gioco che gioco flashback flashback un gioco pensato perché mirco perci ha passato la sua infanzia senza mai finire flashback ragazzi con questo fatto che praticamente possiamo addirittura anche quindi si poteva fare anche il giro praticamente quindi siamo stati noi fessi veramente la cartuccia ragazzi guardate la cartuccella guardate pigliala in mano la cartuccia che ti piace noi scherziamo ma io ma io ma io alessandrino me lo immagino così anche nei movimenti alessandrino è stato un ragazzo che per tanti anni praticamente è stato un grande esperto di coca cola ecco qua dobbiamo dire la verità grande esperto di coca cola ed è stato ancora oggi viene reputato tra i più grandi esperti di coca cola penso poi tino caro mirco papela quindi è veramente qualcosa di un ragazzo che sicuramente per tanti per tanti wow ecco qua mi dico mirco papela avete visto per la ragazzi quando sale quando sale mirco papela ti fa capire ti fa capire che finalmente ho qualcosa da ricaricare ragazzi vediamo un po ea cartuccella cartuccella ragazze cartuccella ecco qua ecco la cartuccella gira e cartuccinato e cartuccinato e ca e mettila dentro sa cartuccelle carica o no e carica o noi non lo sappiamo ragazzi se carica o no e ti ho detto di mettere la generatore di energia nella cartuccella ecco qua vedete un pochettino e metti la dentro questa cartuccia non la mette ragazzi e alla mente l'ha inserita guardate qui la cartuccella ragazzi è veramente incredibile tenga cartuccella adesso perfetto tengo la cartuccella adesso finalmente potrò ovviamente pensate un pochettino e forse potrò fare anche delle altre cose proviamo a mettere l'olo cubo non potremmo a mettere lo scudo e ragazzi vediamo con lo scudariello vedete metto lo scudo che si ricarica veramente incredibile ragazzi è grande grande scudo di movimento proviamo a mettere adesso anche la 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 tessera praticamente sarà la tessera sanitaria ragazzi pensate un pochettino la tessera sanitaria potremmo mettere addirittura la pistolina vedete quindi forse forse l'olocubo lo possiamo mettere vedete l'olocubo si apre guardate guardate che grafica tridimensionate sarà della craicola qua e guardate dentro e ma sono io all'interno dell'olocubo un pochettino do total recall corrada ciao te o tenete applicazioni come sicuramente questo messaggio senza salvare te lo te ricordare ma come parla praticamente parla con corrad avevo letto conad buona domanda ma sarebbe troppo lungo da spiegare l'autotempo stampa e se vuoi alle vostre pelle bellissimo l'italiano traduzione italiana veramente fantastica ragazzi vedete la tessera della crai dovresti in contatto dovresti in contatto con il vecchio compagno di yan a new washington mamma mia ragazzi che grandi che grandi traduzioni il te il te it spiegare tutto buona fortuna e fare bobo boner perché è la mia pelle che giocherai quindi molto 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 dobbiamo dire total recall ovviamente il grande a grande mi sembra total recall è stato fatto da atto di forse è stato fatto da steven king praticamente il il grande il grande il grande il grande romanzo pensate un pochettino quindi veramente qualcosa di incredibile la tessera della crai la tessera di giovannuna coscia lunga pensate un pochettino ragazzi la tessera di giovannuna coscia lunga il cinema dove alessandro arcagno ne andava praticamente ogni giorno pensate un pochettino andiamo qui sopra a salire guardate qui al tempo di musica ragazzi mamma mia ragazza il tempo di musica il grande il grande grande un piccolo mister chubby aiuto aiuto ma tu aiuto ma tu aiuto ma e adere non posso camminare non posso camminare io che devo fare praticamente gli diamo l'olocubo non gli dà la cartuccella non ci interessa la tessera sanitaria ragazzi si pigliati 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 la tessera sanitaria no la tessera sanitaria non gli piace noi gli diamo la cartuccella la cartuccella non gli piace e lei lo scudo magnetico lo scudo magnetico non gli piace perfetto ragazzi diciamo che stiamo giocando bene ora ti fa uno e mirco papella cosa stai dicendo con questo ragazzo con questo signore che veramente ha qualche problema dobbiamo aiutarlo ecco qua perché lo dobbiamo aiutare perché siamo gesù parte seconda gesù parte seconda ragazzi avete capito bene dagli e gli piace sicuramente gli piace il barba gianni penso un pochettino barba giun e mamma mia ragazzi attacco veramente prioritario mamma mia rotolata praticamente avete visto ragazzi la rotolata guardate qui adesso vi faccio vedere con la rotolata che fate attacchi ti attacchi ti attacchi come se fossi una cosa di di zebbra praticamente vedete mamma mia ragazzi rewind ecco qua rewind addirittura salta e va a destra non sappiamo se mirco papella ha già visto il film di queen bohemian rhapsody guardate qui ragazzi veramente l'intelletto del giocarellone l'intelletto che ti aveva fatto capire tante cose guardate glielo metto dentro praticamente lo scudo ricaricabile e gli piace praticamente gli piace al grande generatore di campo di forza veramente assurdo andiamocene quindi da quest'altra parte qua e ragazzi vedete come si attacca e vediamo la rotolata della nonna la rotolata della nonna nene chissà non ha nene ragazzi adesso che cosa sta facendo devo dire la verità e continuiamo quindi per questa uno mamma mia è incredibile con rewind è bello il gasmizzone gli piace il gasmizzone gli piace il gasmizzone gli piace gli piace la cartuccia gli piace la cartuccia la tessera magnetica vedete ragazzi mettila dentro sta tessera scusa il cartuccione ragazzi il cartuccione mettilo dentro il cartuccione guardate qua appena arrivato gasmizzone si prende la cartuccia per atari 2006 ecco qua la reginetta del ballo vedi il bombolone gli piace ma cosa ne pensate mamma mia ragazzi è arrivato il grande grande solitario vedete un pochettino lo andiamo a fare esplodere boom è distrutto praticamente e quindi caranzoni dice ma cosa ne pensate del vocale che ha mandato mister chubby l'altro giorno su telegram ma non me l'ho mandato il gasmizzone bombolone la reginetta del ballo mister chubby non è nel gruppo ero io che praticamente piccolo chubby piccolo chubby ah quella scossa elettrica che mi è stata messa dietro ragazzi molto molto brutta dobbiamo dire la verità o ha detto che io sono mister chubby no 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 è impossibile ah ragazzi per poco avete visto che cosa sta succedendo su questo canale guardate qui col grande ascensore l'ascensore ragazzi caccia sta pistola caccia sta pistola perché qui sono situazioni molto brutte ragazzi ma qui sull'ascensore già c'ero stato mi sembra che si è attaccato a qualcosa si è attaccato a qualcosa ma forse ero arrivato proprio da qua ragazzi mi sa vediamo un pochettino vediamo un pochettino ed eccolo qua che però premi prendi un oggetto prendi un oggetto prendi un oggetto trattalo male digli solamente una cosa con la pietra ragazzi avete capito bene con la pietra con la pietra potete prendere vedete ragazzi non solo possiamo lanciare la pietra pensate un pochettino ma possiamo usare la pietra per fare tante belle cose pensate un pochettino per fare qui e finalmente si salva ragazzi in realtà questi salvataggi ci interessano ben poco vedete ragazzi potete salvare premendo bababà ecco qua ha salvato quando è bravo quando è bravo quando è bravo e quando è bello ragazzi vedete veramente flashback il gioco il gioco che un po tutti avete amato quando eravate piccolini ragazzi flashback con flashback ragazzi ci si diverte tantissimo ragazzi vedete la pistolina la pistolina e spara glielo vedete un pochettino guardate qui boom è incredibile ragazzi abbiamo la tessera sanitaria apriamo la nostra tessera sanitaria vedete ragazzi e andiamola utilizzare sai usarla la tessera sanitaria e non ti mettere paura praticamente non ce l'ha non ce l'ha perché gli fa male il bababà ecco qua ma quale rima ecco qua potersi chiudere la canzone non capisco come è chiuso come è chiuso ha chiuso col fatto che ho pigliato un caffè e fra poco devo andare a fare quello che si chiama il la cremeria per esempio la cremeria di agnani praticamente comunque ragazzi io mi dispi a praticamente affiacciamo il rewind la cremeria di agnani la cremeria di agnani vedete ragazzi pensate un pochettino andiamo qui sotto e dobbiamo scendere praticamente vedete alla mirko vabbè la quando mirko ma guardate qui sotto ragazzi guardate qui sotto che bello ci sono i mostri ci sono i mostri di papeloni praticate come potete vedere pensate a gasmizzone quando giocava da piccolo praticamente a questo incredibile videogioco ragazzi e qui devi 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 buttarti che fai ti fai premettere dietro praticamente è diritto guardate qui piglia 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 l'uovo d'oliva l'uovo d'oliva l'uovo d'oliva e guardate qui ragazzi sta arrivando sta arrivando proprio lui praticamente attenzione perché abbiamo lo scudo praticamente vedete ragazzi quindi dobbiamo stare molto molto attenti attaccati alla finestra attaccati alla finestra ma soprattutto che cosa dobbiamo fare o lo sapete con il nostro scudetto vedete un pochettino guardate qui è bello è bello quando lo mette dentro prende una foglia di verdura verde devo andare devo andare praticamente ecco il vlado 74 3 buon pomariggio giocare alla una grande vlado grande quando quando arriva vlado a quando arriva vlado ragazzi il gioco praticamente si impenna avete capito bene il gioco tutti noi ecco qua carnazzone con qual grande carnazzone lì il carnazzone si mangia sì il peperone è bello divertente quando arriva stefano attraverso io quasi un'erezione quando arriva stefano il grande amico il grande amico proprio dietro caro stefano attraverso l'acchiappato proprio dietro l'acchiappato caro stefano attraverso e guarda qui che cosa vado a fare con la colmitico con mi guarda qua come esplode stefano mamma mia ragazzi sono sono on fight dopo l'eccellente bagno in piscina grande stefano attraverso stefano attraverso una vita una vita fatta di sofferenza con stefano attraverso ma una vita anche con stefano una vita fatta poi dopo di di meno sofferenza attenzione ragazzi a mine celentano che cosa questa è una bomba pure esplodo no 100 crediti ragazzi che cos'è ecco qua la stessera della crai di alessandrino arcandolo c 70 70 crediti o 100 crediti non lo so ragazzi so solamente che qui ovviamente dovrò dovrò andare ovviamente per questa parte qua attenzione al mitico ragazzo di palermo ragazzi guardate qua e addirittura ci possiamo rannicchiare ragazzi perché qui succede altrimenti succede qualcosa di molto brutto ragazzi avete visto che cosa stava precedendo 170 mila crediti ma fa bene il caro il caro il caro vlado il caro ovviamente vogliamo il grande vlado e grande stefano attraverso ragazzi avete visto qui ci sono altri soldi addirittura altri soldini vlado il migliore bagno in piscina ma con la signorina le sott'acqua ovviamente faceva faceva la canna di pamumi sa di sì 170 mila crediti è costata conoscendo stefanino e due ma è stefanino si gode la vita stefanino si gode la vita di certo di certo non è una persona stupida di certo non è una persona stupida perché se può si gode la vita perché stefanino sa la verità sa la verità della vita che si vive una volta sola e quindi stefanino è fatto così stefanino sa già ecco qua vedeve grande vlado vedete un pochettino che manda queste incredibili emoci con conoscendo stefanino ma stefanino ti ripeto una persona è una persona vedi 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 subito ha mandato i coricini perché lui sa dice vieni qua vieni vieni bella vieni che ti do 100 crediti e poi fai quello che devi fare domani vince l'inter vedete il grande carnazione grande carnazione prossimo prossimo professore di geologia gasmizone dice dice ecco qua rimasto un pochettino con la faccia un pochettino il grande gasmizone è rimasto con la faccia un pochettino così praticamente perché dice vlado non si non si nasconde praticamente dietro a queste mamma mia ragazzi che che mani d'acciaio praticamente mirko papela ma inizia a mandare delle immagini anche forse un po ambigui dobbiamo dire la verità e sporta a manna al gasmizone perché i ragazzi per un mamma mia ragazzi e il gasmizone agli era pigliato dietro ecco qua gasmizone inizia a riflettere inizia a pensare se ovviamente la sua vita la sua vita è peggiore o migliore di quella di vlado ragazzi guardate qui sopra fate ad attaccare proprio dietro l'acchiappato avete visto ragazzi molto molto triste quelle uova di caffè quelle uova di caffè ragazzi avete visto lì sotto c'è qualcosa una pietra di nonna praticamente forse non lo sappiamo quindi meramente addirittura le che cose quella quel tubo praticamente quel tubo rotto guardate che cosa è c'è il grog praticamente dall'indietro devo prendere due pizze come me le consigli e ti consiglio la pizza margherita guardate qui ragazzi addirittura guardate qui ci siamo fa lasciate scappare qualcosa vedete la pietra della nonna praticamente vedete ragazzi un'altra pietra di nonna che andiamo quindi a prendere ragazzi quindi che dire di flashback come 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 si è strutturato in questi anni sicuramente un classico un classico intramontabile un classico uscito su più su più piattaforme che sicuramente è invecchiato non bene ma abbastanza bene vedete ragazzi diciamoci la verità mettiamo una tesseriella e cerchiamo ovviamente di aprire ma purtroppo non con la tesseriella qui non si apre quindi che dire vi consiglio sì o no questo questo gioco io ve lo consiglio perché sicuramente ha fatto la storia del videogioco e deriva ovviamente da prinzo persia e dal fantastico ovviamente another world another world però questo non è il seguito di another world è invecchiato al massimo è molto invecchiato ecco qua dobbiamo dire la verità quindi che cosa dirvi che cosa dirvi sicuramente considerazione finale meno male con quello emoticon di mirko non è non la posso spacchiare vlado bravo 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 anal destination addirittura alla fine ovviamente sempre dietro ma chi è quel pazzo che mi ha regalato la sub del canale di mirko non lo so gasmizzone ma so solamente ma che ne so gas potresti regalare la sua banca al giocarellone scherzi a parte fate quello che volete sicuramente un gioco veramente ben invecchiato che però ha avuto un remake e dei seguiti avete capito bene dei seguiti che poi il vostro amico giocarellone vi porterà va bene signori io chiudo un attimo questa live che fa parte della storia legata anche a prinzo persia quindi prinzo per karateka prinzo persia flashback another world alien a ertola alien pensate un pochettino che il vero seguito di another world e poi flashback che ha avuto vari seguiti che poi vedremo prossimamente prossima live tra due minuti tre minuti perché dove andare un attimo in bagno il caffè ha fatto effetto ragazzi vi ringrazio per la visione vi invito a iscrivervi sul canale giocarellone youtube e twitch ovviamente abbonatemi donate mettete mi piace condividete il video fate le vostre richieste privatamente pubblicamente gli altri social network box informazioni ciao a tutti e tutto mamma bimba 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 bimba